3, 2, 1 Accompagnata dal suono della banda, si è svolta regolarmente a New York, nonostante la pioggia, la prova generale del lancio dei coriandoli in vista della notte di Capodanno. L'iniziativa è diventata una tradizione a Times Square. L'organizzatore dei festeggiamenti spiega perché è importante fare questo test. Bisogna essere pronti in qualsiasi condizione meteo. Non c'è niente di peggio dei coriandoli bagnati, però se vedete il video e le foto, quei coriandoli volavano magnificamente anche nelle condizioni peggiori. Siamo pronti per il 31 dicembre. I volontari hanno gettato manciate di coriandoli in aria dalla tettoia di un locale. La sera di San Silvestro ne saranno lanciati oltre 1300 chili. Su questi bigliettini ci saranno auguri e auspici per il nuovo anno, scritti dai cittadini new yorkesi.